Benvenuti a Mappamundi. Cosa sta succedendo in Russia? Il ritorno di Navalny? Le proteste? Putin rischia? Ecco, ne parliamo con Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Ciao Lucio. Ciao. Oretta Moscatelli di Aska News, collaboratrice di Limes. Ciao Oretta. Allora Lucio, cominciamo. Queste proteste, no? È un fuoco di paglia, un qualcosa che arriva dall'esterno, come dice Putin, come dice insomma il potere vicino a Putin? O sono proteste che possono avere conseguenze più gravi? Beh, i manifestanti si contano per ora nelle decine di migliaia sparsi in molte città russe e sono ovviamente russi. russi, molti sono giovani, per la prima volta giovani che scendono in piazza, molte donne. Questo non significa che siamo alla vigilia di una rivoluzione, significa però che c'è una parte significativa dell'opinione pubblica russa che si esprime in maniera, usiamo un termine diplomatico, molto critica nei confronti di Putin. Putin, anche perché sono ormai 21 anni che Putin è al potere, è un signore di 68 anni, quindi non particolarmente anziano, ma i 21 anni di governo, di presidenza della Repubblica sicuramente logorano e pesano. E Oretta, allora, diceva Lucio appunto, 21 anni di potere, no? C'è una generazione quindi nata e cresciuta con Putin che gioca un ruolo fondamentale in questa fase. Sì, diciamo che può giocare un ruolo fondamentale, insomma si parla molto di generazione Putin cercando anche di capire se poi questa generazione esista o meno. Certamente una buona parte, una buona parte dei partecipanti al proteste degli ultimi due fine settimana, considerata l'età media sui 30 anni, una buona parte proprio fa riferimento alla cosiddetta generazione Putin in termini anagrafici, cioè quelli che sono nati con Putin già al potere, quindi che non hanno vincoli di memoria, vincoli culturali con l'Unione Sovietica, con l'impasto sovietico, anche se è cresciuto poi i congenitori che questi li hanno. Allora io più che di generazione Putin parlerei di generazione Internet, c'è una grande spartiacque tra gli over 40, quanto meno, che continuano a informarsi tramite la televisione, e gli under 40 che invece si informano sui social, quindi che per i quali, diciamo quello che dice, semplificando molto, il Presidente Putin, la narrativa del regime e quant'altro, conta e conterà sempre di meno, a mano a mano che il tempo passa e che loro entrano in circolo nella vita del potere con proiezioni dirigenziali ed elettorali. Infatti adesso vediamo come appunto l'arrivo di Navalny in Russia, che cosa ha provocato, un Navalny che si presenta come il grande oppositore di Putin e che usa in maniera massiccia appunto i social e Internet. A questo proposito vediamo un estratto del documentario, il documentario che Navalny è tornato in Russia, è stato arrestato, per il momento, per 30 giorni poi si vedrà, e ha fatto uscire questo documentario molto lungo, di oltre un'ora, che è stato visualizzato più di 100 milioni di volte su YouTube, poi ovviamente ne hanno parlato tutti i media, che è il suo atto d'accusa contro Putin. Vediamo un estratto di questo documentario. Per quanto riguarda il nostro corso, il nostro corso di Rublevcia in qualche razione è il nuovo Versaile, il nuovo Vercanile, il nuovo Zimno di Torno, il nostro corso di Davide. Quale la mia mia immagine è realizzata Putin? Per cui è stato fatto? 20 anni di vittoria, repressiva le loro uccidere, il loro uccidere, il loro uccidere, la loro uccidere, la loro connessione, la loro uccidere, la loro uccidere, la loro uccidere. ora vediamo il risultato per di di meravigliosi e di di bambini e di di stile di ludovico 14 di 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 pe di v di 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 io ho obiettivo che ci siamo arrivati a vittorio a Vladimir Putin e ci siamo arrivati nonostante che nessuno non invitato a uscire l'unico importante lavorato sull'ambiente che lavorava sull'ambiente il suo lavoro è stato riuscente e riuscente costruzare e costruzare le costruzare le costruzare che ci ha presentato un'architettura plan di questo obiettivo c'è tutto da l'articolo da l'articolo e il rastorno vediamo che si è un qui in l'articolo in l'articolo l'articolo in l'articolo in l'articolo in l'articolo in l'articolo l'articolo in l'articolo l'articolo il l'articolo navalny accusa Putin della grande corruzione nel paese e questo palazzo sul mar nero è il simbolo del potere ma anche della corruzione e prima di tornare con orietta al discorso di internet e dei social però lucio volevo chiederti punta navalny molto su un cliché cioè questo parallelo tra questo palazzo sul mar nero e palazzo d'inverno la simbologia l'aquila imperiale anche l'architetto italiano San Pietroburgo ricordiamo la presenza importantissima degli italiani sia dal punto di vista diciamo artistico quindi cerca di usare appunto un cliché un cliché già visto e cioè di chiamare il popolo alla rivolta contro il potere corrotto come nella rivoluzione d'ottobre diciamo che l'architettura italiana ha fatto di meglio non credo che questo palazzo passerà alla storia sotto questo profilo Putin dice di non esserci mai stato non lo so certamente non ci abita però è interessante proprio questo riferimento più volte ripetuto allo Tsar a Luigi XVI a Versailles al palazzo d'inverno come dire questo è il palazzo che simboleggia il potere autocratico del signor Putin e che prima o poi le masse che poi tanto masse non erano ai tempi del palazzo d'inverno lo invaderanno e di qui nascerà un nuovo regime auguri Allora qui c'è anche un uso importante appunto di internet e dei social non solo in questo documentario oltre un'ora che appunto denuncia fatti e misfatti secondo appunto gli segnalanti ovviamente di Putin ma c'è anche un uso dei social quando lui è rientrato è partito da Berlino sull'aereo sui social il video della moglie Giulia che poi dopo anche questo cercheremo di capire se può avere un ruolo importante in futuro che addirittura cita un film fa una citazione di un film stiamo tornando portateci la vodka che è presa da un'attrice famosa in Russia di un film appunto famoso in Russia il ritorno all'arrivo all'aeroporto ripresa diretta sui social da parte appunto dell'organizzazione che attorno al Navalny e appunto poi l'uscita di questo documentario quindi qui abbiamo un uso di internet molto importante che appunto probabilmente fa presa sulla generazione che dicevi tu però si presta anche un po' il fianco all'accusa di essere etrodiretto dall'occidente Beh diciamo che anche in questo insomma in questo filmato che abbiamo visto insomma un breve e breve frammento certamente i mezzi utilizzati per realizzare questi materiali video implicano quantomeno di essere stato aiutato insomma è abbastanza impensabile che si possa arrivare e volare con un drone in modo indisturbato sulla sulla villa o presunta tale sulla reggia insomma putiniana sul mar nero Allo stesso tempo è altrettanto impensabile che gran parte delle denunce anti corruzione che ha fatto in questi anni Navalny e Navalny non è una figura nuova è nuovo il contesto in cui si sta muovendo ma insomma le denunce contro la corruzione le porta avanti da una decina d'anni e quindi queste denunce implicano che lui abbia costantemente del filone di informazione probabilmente dall'interno del sistema e quindi che all'interno del sistema putiniano e questo probabilmente per Putin è un grande motivo di allarme e anche una grande difficoltà di gestione che all'interno del sistema ci siano una o qualche rotella che non marciano, non girano più all'unisono con il potere sì credo che questo sia molto importante rilevarlo perché tutto quello che è accaduto fino a oggi nel caso Navalny o in casi simili denuncia evidentemente che dentro al sistema Putin esistono delle forze, delle persone, qualche direttorato dei servizi che non ama il capo e che prepara la successione e magari può collegarsi anche con forze esterne ma eventualmente il colpo contro Putin verrà da dentro e qui vediamo, stiamo vedendo delle foto appunto delle proteste che ci sono state negli scorsi weekend in Russia qui vediamo appunto anche scontri che ci sono stati tra polizia e manifestanti e come diceva appunto tu Lucio Caraccio dicevi questa è appunto una carta di Limes che un po' mostra questo sistema di potere degli oligarchi che tra l'altro uno degli oligarchi Orietta si è appunto autodenunciato ha detto che un po' questo palazzo questo palazzo è suo comunque insomma l'acquisito tramite dei crediti ecco questo sistema di potere allora di cui diceva Lucio insomma ogni paese sappiamo l'apparato importante la classe dirigente è molto importante in questi vent'anni Putin che cosa ha creato? è una classe dirigente del paese o è un sistema appunto che è legato alla sua persona e quindi destinato a morire con lui? Diciamo entrambe le cose entrambe le cose nel senso che a noi piace molto pensare o ci è piaciuto molto pensare a Putin come questa figura onnipotente che decide qualsiasi cosa dal mattino alla sera all'ultimo dettaglio che accade di quello che sta accadendo nella lontana Vladivostok e viceversa in realtà proprio come questo schema già suggerisce già nella complessità e nei colori e nei cerchi si tratta di una galassia del potere che vede girare attorno al presunto e forse sempre di meno arbitro ultimo una serie di figure di gruppi di gruppi di interessi i cosiddetti silovichili uomini forti dell'apparato sicuritario a cui in questo momento ad esempio è chiaramente delegata la gestione del caso Navalny sul fronte interno questo potere corollerà il giorno che Putin se ne andrà? Probabilmente no, è questa la vera posta in gioco è questa la vera posta in gioco perché dalla riforma della Costituzione l'anno scorso alle elezioni importantissime che ci saranno in settembre per il rinnovo del Parlamento il sistema putiniano cerca di blindarsi in prospettiva vedremo se ce la fa Sì, qui forse anche parlando di questi schemi bisogna considerare qual è il punto di debolezza sistemico cioè Putin si è auto-identificato ed è stato auto-identificato con lo Stato nel momento in cui Putin dovesse crollare rischierebbe di frantumarsi anche l'equilibrio interno alla federazione russa non dimentichiamo che quando Putin sale al potere cioè nel 2000 scelto dalla famiglia Yeltsin e dai suoi compari l'allarme rosso lanciato già alla fine degli anni 90 da Primakov e da altri è proprio questo, la Russia rischia di fare la fine dell'Unione Sovietica siccome noi sappiamo che nell'immenso spazio russo così disabitato esistono numerose linee di faglia sia nell'estremo oriente sia anche nella Russia scusa se ti interrompo ne approfitto perché abbiamo preparato ovviamente le carte di Limes voglio mostrare proprio questo, qui vediamo una carta con gli 83 più due soggetti in otto distretti che ci da l'idea delle dimensioni della Russia enormi che appunto questo è proprio uno dei problemi e questa è un'altra carta di Limes, non tutte le russie sono di Putin che appunto fa vedere come... no, poi la questione è anche questa cioè la minaccia di Putin arriva dalla periferia? arriva dalla periferia ma arriva anche dal cuore cioè è chiaro che vi sono delle aree più instabili di altre nel Caucaso storicamente recentemente vi sono state delle manifestazioni qualche fermento anche nell'estremo oriente, in Siberia non parliamo del Tatarstan cioè la zona diciamo di più importante concentrazione islamica barra islamista e chi più ne ha più ne metta è chiaro però che normalmente le battaglie per il potere in Russia si decidono fra Mosca e San Pietroburgo sulla facciata occidentale e lì bisogna concentrare l'attenzione e allora Orietta intanto appunto voglio mostrare questa carta non tutte le russie sono di Putin dove Orietta qui vediamo proprio appunto diceva San Pietroburgo e Mosca sicuramente sono il centro e anzi Navalny veniva un po' accusato di essere conosciuto solo a San Pietroburgo e Mosca non so se questo è valido ancora oggi e poi vediamo appunto tutte queste zone fondamentali e come dire gestire questo spazio enorme è problematico insomma per figuriamoci per una cassa dirigente figuriamoci appunto per un uomo a potere da tanti anni e soprattutto come scrive l'IMES un po' di anni fa e come ricordava Lucio poco fa la Russia probabilmente o è imperiale o è grande o non è cioè rischia appunto di fare la fine dell'Unione Sovietica perché appunto fino a dove arriva la Russia ecco lo spazio diciamo sovietico russo eccetera è delimitabile? Beh diciamo che la Russia in quanto impero impero federale insomma quello che abbiamo visto nella nella cartina già rappresenta un primo grado di complicazione attuale e di oggettivo pericolo in una prospettiva nemmeno troppo lontana io non penso che ci sarà lo smembramento della Russia ma nelle regioni come ha già detto Lucio insomma ci sono dei fronti di tensione che in una fase di transizione del potere che de facto è già cominciata sono destinati a diventare più acuti il conflitto che è diciamo endemico e che è stato sopito da Putin tra il centro federale e le province è stato sopito con un atteggiamento anche molto aggressivo nel suo ventennio a questo punto per tutta una serie di fattori in primis proprio il fatto che a Mosca le rotelle cominciano a girare in modo un pochino strano viene rimesso in questione bisogna dire che abbiamo visto in questi due fini settimana le regioni partecipare molto a livello proprio di diffusione delle proteste non tanto in termini di partecipazione nelle regioni c'è voglia di protestare in genere questa voglia, quella che viene chiamata la predisposizione alle proteste indicatore che il Cremlino tiene d'occhio in modo costante questa voglia è più facile che venga incanalata in delle questioni locali l'ambiente, la costruzione di una nuova chiesa eccetera se c'è una questione di rilievo nazionale allora il discorso si compre Il punto è esiste un centro dirigente di queste proteste oppure no? Un centro? Allora io penso che effettivamente sia iniziato qualcosa di nuovo proprio per alcune ragioni che abbiamo elencato e che sono quelle di un cambiamento generazionale in corso che avrà delle conseguenze necessarie sul potere non esiste credo una regia centrale perché Navalny ancora non è non ha fatto quel salto di qualità da dissidente anti Putin io denuncio la corruzione a leader dell'opposizione in questo momento i cosiddetti progressisti liberal a Mosca si affrettano a dimostrargli solidarietà con proprio optorto colmo anche perché non è che Navalny abbia diciamo una storia da progressista libera assolutamente questo è molto importante perché sono stati archiviati da lui in primis ma poi insomma anche dall'occidente i suoi trascorsi non esattamente esemplari in questo senso chiaramente insomma posizioni nazionaliste neppure moderate nei suoi vecchi video che adesso comincia a essere difficile trovare ma ancora si trovano insomma vedi Navalny che fa dei poco velati paragoni tra i migranti e gli scarafaggi che porta avanti slogan come non nutrire il caucaso e i caucasici slogan chiaramente di razzismo interno diciamo che hanno molta presa su una parte dell'elettorato e che lui non ha mai rinnegato proprio perché sa che se si vuole giocare fino in fondo alla partita quella parte dell'elettorato dovrà tenere conto benissimo e allora passiamo un attimo allora ampliamo la scala dell'analisi che stiamo facendo e volevo mostrare questa carta del senso di accerchiamento della Russia perché tutto questo diciamo su un movimento interno lucio come dire si applica allo scacchiere insomma più ampio dove abbiamo una Russia che nonostante appunto i venti anni al potere di Putin da alcuni idolatrato da alcuni invece molto criticato però effettivamente permane questa Russia che si sente accerchiata e messa in un angolo soprattutto dagli Stati Uniti e che certamente legittima dal punto di vista del potere centrale russo l'esistenza di un czar o comunque di un potere centrale forte che tiene insieme questa massa di territori spesso molto eterogenei la novità degli ultimi anni dal 2014 a oggi sappiamo è che la Russia si è spostata a Oriente in tutti i sensi sia in queste a mio avviso piuttosto improbabili tendenze a costruire addirittura una nuova capitale Vladivostok o comunque insomma spostare verso la Siberia verso l'estremo Oriente l'asse geopolitico russo auguri perché diciamo sono pochissimi gli abitanti di quell'area e spostare l'asse in quell'area implica o un trasferimento di popolazione certamente non spontaneo o una guerra e il secondo più rilevante ancora è l'allineamento con la Cina allineamento certo non spontaneo ma dovuto alla decisione di Putin e del suo entourage di considerare l'Occidente ormai perduto almeno per ora e quindi di doversi rifugiare in questo strano allaccio con la Cina di Xi Jinping nel comune tentativo per i russi obbligatorio per i cinesi è un optional di valere di più nei confronti degli Stati Uniti in quanto parte di questa strana coppia e questo è il grande pendolo della storia russa ovest-est ma ci sono anche storici ma anche recenti timori e incomprensioni tra il gigante russo e quello cinese secondo te è solo in funzione anti-americana o c'è qualcosa di più lungo periodo che può cambiare nei rapporti tra Russia e Cina? Diciamo che certamente è in funzione anti-americana da entrambe le parti dal punto di vista cinese forse ancora di più ma in prospettiva necessariamente poi un partenariato per quanto strategico è vissuto con una certa diffidenza da parte russa poi si rafforza, si declina in vari modi tanto che lo stesso Putin, ballon de se forse nei confronti di se stesso oltre che dell'Occidente ha ipotizzato non ha escluso una futura alleanza militare D'altronde gli alleati non necessariamente si amano si mettono insieme perché hanno degli interessi in comune e in questa fase storica cinesi e russi hanno un interesse comune appunto bilanciare la pressione americana peraltro l'America vive una fase come sappiamo piuttosto critica e tempestosa quindi questa strana coppia ha aumentato il suo peso specifico Passiamo adesso invece a Ovest all'Occidente perché la questione ovviamente è importantissima dei rapporti tra Russia e Cina in funzione americana ma un fronte importante nei rapporti tra Russia e Stati Uniti in particolare è in Europa vediamo questa carta della nuova cortina di ferro no Lucio perché è successo questo la vecchia cortina di ferro che c'era tra Unione Sovietica e Stati Uniti d'America e alleati degli Stati Uniti d'America in questi anni si è spostata si è spostata verso est e tocca probabilmente quello che secondo la Russia secondo Putin è non solo l'estero vicino ma forse anche proprio al proprio territorio si questa carta mostra molto chiaramente come la sfera di influenza della Russia si sia drasticamente ridotta alla fine del secolo scorso i russi erano sull'Elba cioè sulla frontiera dell'impero romano con il mondo germano barbarico e beh adesso sono asserragliati tra Sebastopoli, Crimea, la Bielorussia, Scricchiola l'Ucraina, almeno la parte fondamentale dell'Ucraina è perduta il Donbass non si augura a nessuno ma è l'ultimo ridotto della chiamiamola resistenza dei russofidi appoggiati dalla Russia quindi sotto questo profilo la Russia ha straperso e non so come la storia giudichera Putin ma certamente è lo Zalca che ha perso Kiev cioè come lo Zalca ha perso in qualche modo il territorio originario dell'impero appunto Orietta quindi sul fronte occidentale Putin è in difficoltà un ruolo chiave svolge anche la Bielorussia Bielorussia che volevo mostrare poi mostreremo una carta insomma anche della Bielorussia e approfitto per ricordare di come la Bielorussia attuale ci sono tutta la parte occidentale sono ex territori polacchi che scopriremo in una puntata della rubrica Geostoria di Lucio Caracciolo sul canale YouTube di Dimes poi appunto rivolgeremo anche questa parte storica quindi ne approfitto appunto per l'appuntamento per la prossima puntata della rubrica Geostoria di Caracciolo tornando a noi abbiamo assistito a una serie di protesti anche qui il potere di Lukashenko scricchiola il potere di Lukashenko scricchiola de facto è già diciamo terminato dipende quando decideranno di annunciarne la sopravvenuta fine in realtà quello che sta tentando di fare Lukashenko comprensibilmente dall'animale politico qual è è proprio di saldare i suoi problemi interni con quelli che Putin comincia a vedere con queste nuove piazze e nuove proteste è lui il primo a dire destino comune fratellanza anche in questo senso dall'altra parte c'è un Putin che tutto vuole fuorché unire il proprio destino ma anche proprio sul brevissimo termine con i problemi di Lukashenko Mosca sta tentando e lo sta facendo in modo molto attivo seppur insomma silente di arrivare in tempi relativamente brevi insomma qualche mese ad una nuova costituzione in Bielorussia che de facto permetta di archiviare in modo dignitoso insomma il presidente contestato certamente la Bielorussia rimane anche per la perdita dell'Ucraina la vera linea rossa per il Cremlino insomma in questi mesi la Russia sta rifornendo rinnovando tutto il parco missilistico insomma in Bielorussia e sono segnali credo di cui non solo bisogna prendere nota ma di cui stanno prendendo nota soprattutto in Germania e anche in Europa lucio ecco questa è la carta il cuneo bielorusso di cui parlavo prima perché appunto la Bielorussia è proprio un cuneo che è una funzione strategica importante quindi per la Russia per l'influenza russa è fondamentale proprio la collocazione tra i baltici la Polonia e l'Ucraina io rovescerei il ragionamento sarebbe un cuneo se la Russia stesse per rilanciarsi alla conquista dell'Europa centrale mi pare che invece si stia preparando a difendere Mosca e sotto questo profilo la Bielorussia, Minsk sono un cuscinetto d'altronde rovesciamo ancora una volta la prospettiva e mettiamoci dal punto di vista dei Polacchi ai Polacchi conviene che ci sia la Bielorussia fra loro e la Russia oppure no in altre parole se Lukashenko cade e arriva al potere qualcuno che aggrega la Bielorussia alla Nato e quindi sostanzialmente la Polonia diventa front line su centinaia di chilometri di frontiera con la Russia conviene ai Polacchi dubito che gli convenga e questo ci porta poi al discorso decisivo fino a che punto l'Occidente vuole spingere l'attacco a Putin? Fino a che punto vuole anche rischiare la frantumazione della Russia? Alcuni certamente per esempio nei paesi baltici vorrebbero almeno una dozzina di russie altri temono che trasformare la Russia in 12 mini russie possa passare attraverso per esempio una guerra civile attraverso spostamenti di popolazione o Dio non voglia anche attraverso lo spostamento di depositi di armi nucleari guerra c'è stata mettiamo qui la carta le Ucraine oggi guerra c'è stata in Ucraina insomma anche se non è stata dichiarata c'è ancora e poi dopo vedremo anche Crimea e Mernero per ora teniamoci appunto quindi se in Bielorussia ancora si discute ancora c'è diciamo Lukashenko che regge in Ucraina invece si è andati alla rottura totale? Sì anche se è tutt'altro che stabilizzata l'Ucraina siamo ancora in una fase di passaggio non si capisce verso che cosa non si può immaginare una vera e propria ricomposizione dell'Ucraina così com'era ai tempi sovietici e come è stata per conseguenza da Repubblica Indipendente avremo quindi ancora delle fratture come quelle attuali nel Donbass in Crimea e così via e soprattutto non abbiamo un potere forte centrale legittimato ancora a Kiev e penso che ci vorrà del tempo E orietta allora vediamo in quest'Ucraina sostanzialmente la conquista tra virgolette da parte di Putin la riconquista anzi dal suo punto di vista di Crimea, Donbass ha provocato però uno spostamento non solo diciamo geografico in un certo modo verso occidente ma anche politico dell'Ucraina verso occidente allora l'Ucraina dal punto di vista di Putin dalla Russia nazionalista ovviamente dalla Russia di Kiev svolge un ruolo importante fa parte dell'area russa dell'anima russa addirittura quindi dal punto di vista russo Kiev è persa Kiev si trasforma come in questo momento si può trasformare nel lungo periodo in un baluardo antirusso oppure c'è ancora possibilità da parte della Russia di rientrare in quest'area? Kiev è persa è persa tra l'altro in modo anche dal punto di vista un po' più pragmatico che comunque esiste al Cremlino per quanto riguarda il progetto che Putin aveva di creare questa unione eurasiatica economica che esiste ma che senza l'Ucraina non ha il ponte verso l'Europa quindi fondamentalmente non può avere il rilievo che avrebbe voluto io penso che al momento riguardo l'Ucraina insomma il Cremlino stia a guardare è molto interessato mantenere deve mantenere una certa instabilità e questo nell'est è endemico per evitare che ci sia il salto di qualità dello spostamento dell'Ucraina nell'orbita occidentale ovvero l'ingresso della Nato insomma quella rimane la grande questione che si riattiverà riattiverà con Biden alla Casa Bianca anche probabilmente sul fronte giorgiano in queste settimane i vertici giorgiani si sono proprio attendati a Bruxelles dove c'è anche la base il quartiere generale della Nato oltre dell'Unione Europea per perorare entrambe le cause per riattivare quei canali della insomma di riavvicinamento all'Europa e di conseguenza alla Nato che loro sperano possano portare a qualcosa di concreto insomma in epoca Biden hai citato la Georgia e quindi ecco qui la carta del Mar Nero il fronte del Mar Nero sempre le carte sono di Laura Canali ricordiamolo e quindi qui in Lucio Putin ha riconquistato la fortezza Crimea ricordiamo la Crimea era stata regalata da Khrushchev alla Repubblica Sovietica Ucraina quando nell'ambito dell'Unione Sovietica era insomma un passaggio di scarsa importanza poi con la dissoluzione dell'Unione Sovietica la Crimea si è trovata fuori dalla madre Russia non solo dal punto di vista storico ma anche pratico sede della flotta navale russa ovviamente adesso Putin diciamo l'ha riconquistata forse perdendo però Kiev e l'Ucraina sì diciamo che chiaramente è stata una scelta obbligata cioè non poteva non tenersi perché non è che l'abbia presa non mi risulta una grande resistenza armata Ucraina in Crimea anzi se l'è presa in due giorni e se la terrà fino alla prossima guerra se la perde perché la Crimea è troppo importante come dominio del Mar Nero tu citavi la flotta e l'accesso poi dal Mar Nero verso il Mediterraneo attraverso gli stretti turchi su quello spazio si affacciano anche dei paesi non esattamente amici prima di tutto la Romania che sta diventando sempre più un asset americano nato nella regione della Turchia meglio non fidarsi dal punto di vista russo anche se si fanno parecchi traffici insieme insomma la Crimea non viene mollata e l'Ucraina non credo che abbia né la forza né la voglia adesso quantomeno di andarsela a riprendere Allora Orietta il Mar Nero qui appunto anche qui prosegue quella nuova cortina di ferro in realtà taglia anche il Mar Nero perché vediamo Romania e Bulgaria membri della Nato la Turchia anche membro della Nato ma insomma diciamo tra molte virgolette e la Georgia che citavi prima quindi il Mar Nero è proprio uno dei fronti no? di Putin e della Russia è uno dei fronti e lo sarà sempre più nel senso che il Mar Nero a fasi alterne anche molto brevi sembra un po' più turco un po' meno turco e sul versante diciamo giorgiano ci sono delle attività americane che sono continuate anche durante la presidenza di Trump insomma per rafforzare anche solo insomma in termini commerciali la propria presenza e per non perdere quel minimo di presa su una regione che è il caucaso meridionale dove comunque gli equilibri si stanno ridisegnando a partire dalla recente insomma crisi del Nagorno Carabacca quindi tutta l'area sì assolutamente rimane rimane un fronte molto attivo e credo che lì vedremo vedremo parecchie nuove puntate anche sorprendenti insomma ovviamente ci torneremo e quindi in chiusura Lucio torniamo sul Mar Nero abbiamo iniziato con Navalny il palazzo la denuncia di Navalny appunto è sul Mar Nero e quindi chiudiamo col Mar Nero e in conclusione abbiamo detto il rapporto tra Russia e Cina è fondamentale ma fondamentale per i prossimi anni e anche per l'Italia anche per gli effetti che ha sul Mediterraneo e il Mediterraneo il rapporto tra Russia e Turchia sì anche perché come sappiamo noi adesso confiniamo con Russia e Turchia lungo il canale di Sicilia perché da quando si sono insediati i russi in Cirenaica e non se ne vogliono andare i turchi a Tripoli meno per meno noi abbiamo a che fare con queste due potenze quindi dal punto di vista strategico l'Italia deve pensare lo spazio del Mar Nero come la base da cui si dipartono queste due nuove potenze tra virgolette nuove che si affacciano sul mare che dovrebbe essere storicamente nostro che non lo è più da un sacco di tempo ma che soprattutto è diventato disputato ricco di contenziosi di conflitti quindi la potenza russa e quella turca sono potenze di casa nostra e allora grazie Eoretta Moscatelli grazie Lucio Caracciolo e al prossimo appuntamento con Mappamondi